Poi da quando vada mo? Prima a destra mo. Senti però aspetta un attimo, ti volevo un attimo prepararsi i miei perché loro sono un po... Mo ti vedo tesa, mi pare tesa, che sei tesa? So tesa. Vuoi di che sei tesa? Ma stai tranquilla mo, io sono contento di presentarmi ai due consanguine. Che? Dico sono contento di fare la conoscenza dei due genitori, stai tranquilla. No, è che loro sono un po, come dire... Provenuti? Da dove? Però dico sono provenuti nei miei confronti per fatto, sta storia dice parla male italiano, io ho studiato, sono un bravo ragazzo, quello è importante. Sì però non è quello, è che loro sono un po, come dire... Marfidati, dice questo farcarciatore non c'hanno stipendio sicuro, tu li rego ad ambio pure io. Francesco però non è quello, è che loro sono un po... Amore ho capito, adesso sono due genitori come tanti altri, adesso mi stai a farà... E no, amore. Allora, amore, mi raccomando, non te spaventare. Amore, non te preoccupa, ho capito, messo a fare la capoccia così, i miei sono un po, come dire... Ho capito, amore, e no, amore, dai, e che sarà mai? Mamma, questo... Mamma, papà, mamma, questo è il Francesco. Mamma, papà, mamma, aspetta, non respira. Ma tu pure figlia mia, che hai combinato? Cioè, gli ditta che sciocava un pallone in una squadra romana, che era un capitale. E noi ci aspettavamo a destra. Ma basta, io Francesco, ci amiamo. Ma su, dai, mi ricordi? Pur a te non ti voleva, mi pare, poi tutto si è giustato, no? Sì, ma io gli avevo fatto morire l'Uvitello, non ero mica della Roma. Vabbè, sì, mangiamo questa torta, vai. Sì, sì, fammolo, festa, dai, fammolo, festa, guarda che bel pensiero una torta. Ci hanno dovuto fare un bello maggio, vedi, che... Ma quale maggio a Giugno? Ma la mamma tutta uguale. Così fa se mangiamo a tutti. Il pranzo c'è da colazione. No, no, basta. No, vabbè, noi avevamo detto che doveva essere una festa, che ci dovevamo divertire, proviamo a divertirci. No, vedi, lei, signore, ci sa giocare a freccette. Il ritiro c'è gioco spesso con Batistuta, solo che da un po' lui non c'è via. Ci vogliamo provare e proviamoci. Ma che è il bersaglio qui, no? No, 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 aspetta, amore, aspetta, io levo dire semplicemente che finimola con queste cose. No, siamo tutti uguali, noi e voi burini, dai. Dobbiamo da mettere dei fiori nei nostri cannoni perché il mondo sta cambiando e cambierà. E la pioggia che va ritorna e il sereno. E noi si amiamo e parliamo la stessa lingua, vero, amore? U lala, u lala, u lala, u lala, u lala. E per cui basta, finimola con questa cosa. In fondo siamo cinque esseri umani, cinque esseri umani, c'avevamo tutti e cinque un naso, tutti e cinque una bocca, tutti e cinque, amore, un cuore che va. Non sto cinque, uscita dalla casa mia, non cazzo. Stroportalo fuori, amore. Amore, ma che io ho fatto? Cinque, che hai detto? Lo sai che per noi la ziani dopo il derby la parola cinque è proibita? Ma capito, mamma, sì, tagliato quante dita c'hai nella mano, ma chi è me li spugni? Quattro più una.